Urla, rabbia, attenzione. Lo zingaro questa volta ha perso la testa e quando gli agenti della polizia municipale si sono regati questa mattina in via Conte Agostino Pepoli per sequestrargli la merce, è andata in escandescenza. Assieme alla moglie, che poi è stata colta da malore, ha buttato per terra le sue piante, inveendo contro gli uomini in divisa. L'attimo spera è subito diventata incandescente, nonostante la pioggia abbattente. Poi l'arrivo del capo dei vigili urbani, il viaggio dell'Io, presente anche il vice sindaco Giuseppe Licata, ha accalmato gli animi. Giuseppe Guarnotta, di 59 anni, meglio conosciute come lo zingaro, ha la licenza di venditore ambulante, ergo non può stazionare in via Conte Agostino Pepoli nei pressi dell'omonima villa, dove invece ha realizzato un vero e proprio punto di vendita occupando abusivamente il solo pubblico, ma dovrebbe spostarsi da una zona all'altra, con sosta non superiore a 60 minuti. Un mese fa aveva già subito un sequestro di 90 piante, in quella circostanza gli agenti della municipale gli intimarono di non sostare più in quel tratto di strada. Lui però da lì non intende spostarsi, così questa mattina è scattato nuovo blizzo dei vigili urbani, impegnati, come sostiene il comandante Biaggio dell'Io, in interventi a sostegno della legalità in ogni parte della città per reprimere il dilagante fenomeno dell'abusivismo nel settore del commercio. Nessun accanimento nei confronti di nessuno, ma le regole vanno rispettate. Adesso Giuseppe Guarnotta, assieme alla moglie, oltre ad aver subito il sequestro e la multa, rischia la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Mi hanno fatto un sequestro avendo una licenza ambulante e ho fatto sempre delle richieste del solo pubblico e mi dicono che non è intercettata dalla zona questa richiesta, questo è solo pubblico e mi mandano sempre a quel paese. Io mi voglio regolarizzare con il comune, o che dico competente, è qualcuno, è qualcuno della zona, non so chi è, che fanno esposte anonime, perché io lavoro onestamente, dignitosamente per non andare a rubare e non andare a spacciare droga. Ci siamo? E allora vengo di un passato, mi sto riabilizzando nella società, con questa crisi che c'è, questi signori o di scontabile mi stanno mandando di nuovo a rubare, avendo una licenza ambulante e scontrini fiscali. Ci siamo? E allora questi signori, come mi devo comportare io con questi signori? Lo tengo pulito, lo lavo, lo faccio, lo dico, ci lascio il passaggio pedonale e loro continuano per l'ennesima volta a sequestrarmi la merce che io la devo pagare.